Rifinitura conclusa e tutto pronto, finalmente si parte. Squadra galvanizzata, il tecnico galvanizzato, in quel di Volla purtroppo campo neutro. La Cavese affronterà il Città di Gragnano in questo esordio, in questa partita di esordio del nuovo campionato stagione 2015-2016 che vedrà gli Aquilotti finalmente protagonisti e forse squadra da battere nel girone Calabro-Siculo. Io penso che per le prime dieci partite di campionato gerarchie in questo girone non ce ne saranno. Le partite con i tre punti sono tutt'altra cosa rispetto ad una partita amichevole. Questo potrebbe essere l'unico errore che questa squadra potrebbe fare. Se considera facile facendo una proporzione rispetto alla partita amichevole svolta e vinta bene contro il Gragnano. Si riparte da 0-0, una partita dove i tre punti saranno fondamentali per entrambe le formazioni. Ovviamente formazioni che sulla carta dovrebbero fare campionati diversi, ma questo lo dovrà testimoniare il campo, non sarà la carta dove lo testimoniare. Contro il Gragnano, in quel di Volla, ovviamente la Cavese sarà sola, non accompagnata dai tifosi, ma i tanti, i tantissimi tifosi bianco-blu, grazie anche a RTC Quarta Rete, potranno seguire la gara in diretta. Un evento importante, mediaticamente molto importante, carichiamato anche l'attenzione del tecnico lungo. Dobbiamo capire che noi comunque, anche giocando a porte chiuse, possiamo portare soddisfazione, oltre che alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci vogliono bene, ma alle tantissime persone e tifosi della Cavese. Quindi questo fatto che ci sarà la diretta, sappiamo che ci saranno dei cuori vicino alla televisione, che palpiteranno per la nostra prestazione. Questo ci deve dare onore, ci deve dare la possibilità di essere orgogliosi di questo fatto e deve essere una forza in più, perché noi dobbiamo ritornare a Cava fra un mese con l'entusiasmo di una piazza che vuole assolutamente fare bene in questo girone.